Duro colpo delle forze dell'ordine al mercato della droga. 37 arresti, sequestrati 8 chili di cocaina, 16 di hashish, un fucile a canne mozze, due pistole ed un valore stimato alla vendita delle sostanze stupefacenti di svariati milioni di euro. Trovati anche 53 mila euro in contanti. Il rumore delle sirene, i lampeggianti, il suono delle pale dell'elicottero e quello delle unità cinofile. Si è consumata alle prime luci dell'alba quella che è stata definita una delle operazioni più importanti contro alcuni clan camorristici e lo spaccio di droga in provincia di Salerno. La squadra mobile della Questura di Salerno e il reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno con il supporto del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano e del nucleo cinofili di Sarno hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA nei confronti di 37 indagati, 30 in carcere, 7 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illicito di sostanze stupefacenti. I malviventi hanno agito con l'aggravante di agevolare le attività delle associazioni camorristiche Defeo e Pecoraro operanti nella provincia salernitana, due clan che in passato erano spesso sul piede di guerra per il controllo del territorio e che invece negli ultimi due anni avevano trovato una tregua con tanto di accordo per il traffico di stupefacenti sulle piazze. L'operazione è frutto di una fattiva sinergia delle forze dell'ordine tra carabinieri e polizia di Stato. Stamane ne hanno parlato in conferenza stampa il questore di Salerno Maurizio Ficarra e il comandante provinciale dei carabinieri Antonino Neosi. Venezolano e colombiano, più che il filone sono dei soggetti che appartengono a questi paesi ma che noi ormai abbiamo individuato come responsabili di questo traffico. È importante perché ha colpito due clan che storicamente erano portatori di interessi a limite contrapposti. In realtà qui hanno unito le forze per poter meglio condurre questa attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il dato secondo me importante è che le persone arrestate sono tutte italiane. Quindi qui si tratta di un livello leggermente superiore anche al semplice spacciatore perché in questo modo per il momento abbiamo in qualche modo interrotto i canali di approvvigionamento del traffico dello spazio di sostanze stupefacenti sulla provincia di Salerno. Canali che come abbiamo visto provenivano sia da Roma sia da Napoli. Insomma quindi la cosa importante di queste due attività condotte separatamente da carabinieri e polizia però coordinate e quindi noi eravamo strettamente in sinergia con la polizia di Stato ci ha consentito di documentare questi anni di attività investigativa perché l'indagine è partita nel 2017. Quindi si è svolta su più step con controlli vari, sequestri vari sia di cocaina che di hashish che di armi, controlli lungo l'autostrada che apparentemente occasionali ma che in realtà rientravano in questa attività investigativa più ampia e il fatto che sia stata condotta in parallelo per poi convergere è stato questo il successo e io credo che sia importante per il momento aver messo un punto fisso su quella che è l'attività e sui soggetti che su Salerno compiono queste attività.